Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta sul mondo di Cree. Se Simba collabora cercherò di fare un video perché è già la terza o la quarta volta che provo a fare un video ma lui puntualmente si piazza davanti alla telecamera perché vuole starmi vicino. Quindi riproviamo per la quinta volta a fare questo video. Questo video nasce in collaborazione con una ragazza davvero molto simpatica ed è Marianna che ha appunto il canale YouTube e la pagina Instagram denominata Hufflepuff Love Books. Ed è con questo video che parte la nostra collaborazione, una collaborazione che penso andrà avanti perché abbiamo tantissime cose in comune e di cui ci piacerebbe parlarvi. Per questo primo video in collaborazione abbiamo scelto una tematica a cui siamo molto legate, ovvero Stephen King e i suoi libri. Quindi abbiamo deciso di parlarvi dei nostri tre libri preferiti di Stephen King in assoluto. Ovviamente io dirò i miei e lei sul suo canale dirà i suoi, quindi al termine di questo video andate a vedere il video di Marianna. Ripeto, Hufflepuff Love Books. Comunque ce l'avete scritto nel titolo, il nome del suo canale. È stato super difficile sceglierne solo tre perché io ho amato tantissimi libri di Stephen e quindi vi ripeto è stato molto molto difficile sceglierne solo tre, ma ci sono riuscita. E quindi partiamo. Dolores Claiborne. Dolores Claiborne è un libro che io ho amato tantissimo. Di cosa parla? Dolores Claiborne è un libro molto molto toccante, crudo perché è molto molto crudo perché tocca delle tematiche davvero molto dolorose. Dolores è una donna schiacciata dalla vita. Una donna vessata dal marito, una gran lavoratrice e una mamma, ma è soprattutto una donna indurita dalla vita. La storia di Dolores è molto molto toccante perché va a rappresentare purtroppo moltissime donne che ancora oggi vengono disprezzate, umiliate, schiavizzate e assolutamente non rispettate dal marito, compagno, genitore, insomma tutte quelle donne che purtroppo subiscono degli abusi da parte di chi invece dovrebbe rispettarle, amarle e proteggerle. E purtroppo è un libro molto molto attuale. La storia di Dolores è complicata perché a seguito di un abuso molto molto importante e scioccante, Dolores decide di eliminare il marito e lo fa in un modo molto particolare, ovvero facendolo cadere in un pozzo durante una notte, un giorno di eclissi. Se avete visto il film, sì, perché da questo libro è stato tratto un film con Katie Bates. Mi pare che si intitoli proprio l'eclissi. E questa decisione avviene dopo che Dolores fa una scoperta davvero scioccante che riguarda sia suo marito che la figlia. Ed è proprio per la sua crudezza che questo libro mi è piaciuto tanto, perché tocca veramente degli argomenti crudi, degli argomenti pesanti da affrontare. Ed è proprio grazie al personaggio di Dolores che io stessa ho fatto delle considerazioni che mi hanno aiutato anche a capire le mie stesse difficoltà. Ecco, diciamo così. E quindi l'ho sentito un libro molto molto vicino a me, per tante cose, per tanti temi che tocca. Mi è piaciuta tantissimo la protagonista, perché Dolores è una donna si indurita dalla vita. ma che trova una forza, è una persona resiliente, una persona che nonostante tutto, nonostante il vissuto davvero davvero difficile e complicato e doloroso e pesante, riesce comunque a trovare ancora la forza e il coraggio per andare avanti. E vi assicuro che non è facile, vista la vita che Dolores fa. un po' anche grazie ad una persona che all'inizio non l'aiuta affatto, perché lei si ritrova a diventare badante di una vecchia signora che all'inizio si presenta come persona sgradevole, spreggevole, una persona davvero pesante, noiosa, sillante, ma soprattutto appunto spreggevole. Però, con l'andare del tempo, le due finiscono per raccontarsi, perché anche questa donna non ha avuto una vita molto semplice e quindi finiscono per appoggiarsi l'una all'altra. Ed è anche bello leggere questo libro proprio per questa amicizia che si crea fra le due. È un libro che secondo me bisogna leggere almeno una volta nella vita, perché è veramente una storia sofferta, una storia che ci lascia qualcosa nel cuore, nella pelle e nell'anima. Davvero, davvero uno dei libri più belli che io abbia mai letto di King. E poi passiamo a lui, Il Miglio Verde, come potevo non citarlo. Il Miglio Verde è un libro, ma anche un film, che tutti, 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 tutti conoscono. Anche chi magari non è proprio amante di Stephen King. Perché è una storia splendida, è una storia completa, è una storia complicata, mistica, ma anche e soprattutto emozionante. Tutti conosceranno la trama di questo libro, però, per quei pochi che non la conoscessero, in pratica parla del rapporto che si va a creare tra un guardia e un carcerato. È ambientato, ovviamente, in un carcere, all'interno appunto di un carcere, ed è una delle tante tematiche che tocca è sicuramente il razzismo. perché qui i personaggi importanti sono due. La guardia carceraria, che nel film prende il volto di Tom Hanks, che è un attore straordinario, e un carcerato, un uomo di colore, che viene accusato di aver ucciso due bambine. Questo carcerato, ovvero John, John Coffey, viene appunto tacciato, e quindi accusato, di aver ucciso due bambine. Ma è accusato ingiustamente, perché in realtà lui non ha fatto nulla di ciò. Anzi, quest'uomo, che viene poi descritto come un gigante buono, in realtà stava facendo tutt'altra cosa. Stava cercando di aiutare le due bambine. perché John Coffey ha un potere. Ha il potere di scacciare il dolore, la malattia, dai corpi altrui, per farlo risiedere nel suo. Sì, questo libro ha del sovrannaturale, a differenza di quello che ho citato prima. Ma la vena mistica, la vena quindi di fantascienza, è così ben intricata con la storia reale, che anche anche gli amanti dei libri realistici, quindi senza nessuna componente magica o fantasiosa, lo ameranno. perché è vero che John Coffey ha dei poteri, ma il libro è più basato sulla storia di John Coffey e sull'amicizia, sul rispetto, sul legame che si va a creare tra la guardia giuraria, la guardia giurata, ce la posso fare, e John Coffey. È un libro che mi è piaciuto da impazzire, perché sebbene sia ambientato in un carcere, quindi con tutti i meccanismi dei carceri di una volta, quindi dove i carcerati subiscono le vessazioni delle guardie, ma anche fra loro appunto accadono delle cose particolari e si parla anche di Hall Sparky, ovvero la sedia elettrica, perché appunto in quegli anni chi veniva imprigionato per cose molto molto gravi, veniva alla fine ucciso tramite la sedia elettrica. Ed è un libro che mi ha emozionato tantissimo, perché all'interno appunto della storia del racconto vi sono anche personaggi secondari che sebbene siano colpevoli in qualche modo si riesce comunque a distaurare, a provare un affetto per questi personaggi. Per esempio io mi ero affezionata tantissimo a Delacroix, un carcerato che ahimè purtroppo aveva veramente commesso un'azione barbara, ma che la penna di Stephen King, il racconto è creato tanto bene che alla fine pur ammettendo una barbaria fatta da quest'uomo si riesce comunque alla fine a provare una sorta di affetto per lui anche perché Delacroix aveva estaurato un'amicizia speciale con un topolino un topolino che è diventato poi famosissimo sia per il libro ma soprattutto per il film perché questo topino diventa un personaggio a tutto tondo a tutti gli effetti del libro del racconto e sarà presente in tutto tutto il racconto come vi dicevo prima è un libro straordinariamente bello con dei personaggi così profondi così ben dettagliati così emozionanti che non si può proprio non amare questo libro John Coffey rimarrà sempre per sempre uno dei miei personaggi preferiti in assoluto questa montagna d'uomo che fa paura a tutti ma che in realtà nasconde veramente un cuore puro il cuore di un bimbo ed è qualcosa di meraviglioso che ti entra davvero sotto pelle non so veramente descrivervelo soltanto leggendolo o guardando il film potrete capire a cosa mi riferisco di cosa parlo che cosa ho provato ed è bellissimo il rapporto legame che si va a creare tra la guardia carceraria e quest'uomo è davvero stupendo infine pezze matari questo libro è l'unico libro ad oggi che si è riuscito a spaventarmi io ormai lo sapete se mi seguite da tempo che sono un amante dell'horror e praticamente nulla riesce a terrorizzarmi ma questo libro ci è riuscito è riuscito a farmi provare quel brivido quell'ansia quel disagio che non avevo veramente mai provato leggendo un libro poi Zematari racconta la storia di una famiglia una famiglia che si trasferisce e va ad abitare in una nuova zona in un soborgo residenziale di una cittadina del Maine quindi una famiglia come tante padre madre una sorellina e un fratellino e il gatto di famiglia questa strada però è trafficata dai camion che vanno purtroppo ad alta velocità e accanto a questa strada c'è un cimitero un cimitero degli animali che il capo famiglia scopre grazie ad un vicino di casa un po' particolare perché c'è una leggenda diciamo una storia su questo cimitero degli animali e gli viene appunto raccontata da questo vicino in poche parole si dice che sepolto un animale in questo cimitero esso tornerà alla vita ed è proprio ciò che succede al gatto di famiglia che viene ahimè purtroppo trovato morto una mattina da appunto dal padre dei bambini che adesso purtroppo non mi ricordo il nome si può ma è è normale è uno dei miei libri preferiti ma io Luis purtroppo ho una pessima memoria quindi non mi ricordo mai i nomi chiusa parentesi quindi Luis decide di visto che i bambini sono molto molto legati a questo gatto decide di provare a seppellirlo in questo cimitero anche se è un po' scettico cioè sinceramente non ci crede lui a questa cosa ma deve ricredersi quando un bel giorno il gatto torna a casa anche se ecco non è proprio come lui lo ricordava bensì ha delle particolarità questo nuovo gatto è particolarmente aggressivo ha un odore molto molto fastidioso e qualcosa in lui è profondamente cambiato ma le tragedie non sono finite perché purtroppo un giorno il piccolo di famiglia il bambino purtroppo viene investito e quindi ucciso da un camion di passaggio ed è proprio qua che inizia la parte più succosa del libro perché Luis disperato tenta il tutto per tutto e va a seppellire il corpo di suo figlio in questo cimitero non vi voglio spoilerare tutto per cui mi fermerò qui però vi assicuro che è un libro che vi fa davvero venire i brividi a me personalmente me l'ha fatti venire io immaginavo non posso non posso dire vorrei dire delle cose ma non ve le voglio dire perché vi spoilererei tutto il libro e non è bello perché è un libro veramente che dovete gustare pagina dopo pagina perché è troppo bello per essere spoilerato però vi assicuro che è un libro terrificante se siete particolarmente fifoni probabilmente non dormirete per un mese dopo la lettura di questo libro però ne vale assolutamente la pena perché appunto in questo libro c'è l'horror vero c'è la paura il terrore puro ed è ovviamente anche un libro che tocca una tematica molto forte come la perdita la disperazione di il non non riuscire a a convincersi a a mettersi il cuore in pace insomma perché quando si perde un figlio o ma qualsiasi altra persona quando si perde insomma una persona amata si si soffre talmente tanto che a volte si 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 inizia a credere di poter fare delle cose affinché la persona amata torni indietro e qui in questo libro c'è appunto questo tipo di sentimento io non vi so dire davvero che cosa ho provato mentre leggevo della morte di questo bimbo mi sono sentita così male così addolorata abbattuta che mi sembrava di essere di vivere questa cosa sulla mia pelle ed è stato veramente una cosa che mi ha segnata ed è per questo che è diventato uno dei miei libri preferiti anche per questo fatto qua a parte il fatto che è riuscito a spaventarmi come niente prima d'ora e quindi posso sinceramente dirvi che pezze matari è il libro per eccellenza di Stephen King perché lui appunto viene dipinto sempre come il re dell'horror e pezze matari secondo me è il libro più spaventoso che lui abbia mai scritto con questo ha toccato proprio l'apice dell'horror di ciò che fa paura perché la morte è comunque una cosa che da sempre ci fa paura e quindi è proprio per questo che sciocca la mente e bene amici questi sono i miei tre libri di Stephen King preferiti spero che il video vi sia piaciuto se così è mettete un pollicino in su e se avete voglia iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video io ora vi mando al video di marianna hufflepuff love books e andate a vedere quindi quali sono i suoi tre libri preferiti vi mando un bacione vi auguro buone letture e fatemi sapere quali sono i vostri libri preferiti di Stephen King se appunto siete un amante di questo meraviglioso scrittore ciao a tutti amici